Omicron 2 ha dimostrato un alto potere infettante. Una ricerca di questi giorni dell'Istituto Superiore dimostra come un caso di Omicron 2 può avere la capacità di contagiare fino a 18 persone contemporaneamente. Quindi si tratta di un virus che ha una capacità di trasmissibilità pari a quella di altri virus come per esempio quello del morbillo. È meno aggressiva ma più contagiosa e l'aumento dei casi ne è la prova. La variante Covid-Omicron 2 può anche essere recidiva nel 3-4% dei casi. I contagi cresceranno ancora, affermano gli esperti, ma non ci saranno le forme gravi. C'è stato un rebound dei casi di infezione anche a livello delle nostre zone e questo può dipendere da più motivi, forse perché un pochino si erano state allentate le attenzioni da parte delle persone. Ancora la stagione è fredda per cui la diffusione negli ambienti chiusi delle forme virali è più facile. E poi è venuta fuori questa variante che effettivamente si caratterizza per una maggiore diffusibilità. Sembrerebbe meno patogena, meno cattiva rispetto all'Omicron e a sua volta ancora meno rispetto alla Delta. Però quello che dico io è che quando noi abbiamo tanti tanti casi, ovviamente tra i tanti casi abbiamo anche persone cosiddette fragili. Quindi quelle o che non hanno risposto al vaccino o che magari non si sono vaccinate o che non hanno fatto la dose booster. Quindi comunque sia in questo importante numero di casi poi noi potremmo avere anche dei casi più gravi. A grandi linee la sintomatologia rimane la stessa. Naso che cola e molti starnuti, mal di testa e senso di spossatezza. Dolori muscolari, correlativa stanchezza e mal di gola sono stati i sintomi più segnalati. Verificati anche casi di nausea e diarrea. Rispetto alla versione tradizionale del Covid, associato in particolar modo alla variante Delta, in questo caso sono meno frequenti le segnalazioni della perdita di olfatto e gusto, sintomi spia della malattia nelle precedenti ondate. I sintomi più lievi rischiano quindi di essere confusi con quelli classici da raffreddamento, molto comuni nei mesi invernali e diffusi tra i bambini. La durata media della malattia va dai 5 ai 7 giorni con un periodo di incubazione di 3. Comunque anche una risalita dei ricoveri c'è da aspettarsela? Noi qualche caso in più l'abbiamo visto, lo stiamo vedendo per esempio sempre nell'ambito della nostra azienda Grosseto e quindi qualcosa c'è sicuramente. Vediamo nei prossimi giorni, ovviamente stiamo monitorizzando i numeri, i casi ricoverati e poi tireremo le somme. Il motivo della risalita dei contagi sta anche nel fatto che questa subvariante sembra poter sfuggire all'immunità specifica generata dal vaccino e dalla patologia. Ecco il perché anche della recidiva. L'azienda ha messo a disposizione sedi e hub vaccinali. Adesso la gran parte della popolazione è vaccinata. Certo, per la terza dose ancora mancano l'appello molte persone. L'azienda con l'accessazione dello stato d'emergenza chiuderà le sedi hub, per esempio il centro affari di Arezzo e le attività saranno internalizzate all'interno delle sedi dell'azienda ASL Toscana Sud-Est. Quando chiuderà? Ma con la fine del periodo dell'emergenza, verosimilmente intorno alla data della fine di marzo. Grazie. Grazie.